lotta senza quartiere da parte delle fiamme gialle sul fronte delle frodi fiscali a sfondo sociale i finanzieri della compagnia di fano hanno scoperto una cittadina italiana beneficiaria di prestazioni sociali non dovute in particolare è stato appurato che la contribuente pur di usufruire dell'esenzione dal pagamento della retta scolastica della propria figlia e della riduzione della quota prevista per la rifezione scolastica aveva prodotto al tempo una dichiarazione isee falsa omettendo di indicare i redditi percepiti e soprattutto le disponibilità finanziarie per oltre 184 mila euro nonché l'intero patrimonio immobiliare intestato al coniuge le fiamme gialle hanno conseguentemente ai controlli effettuati segnalato la cittadina l'amministrazione comunale per il recupero di quanto in realtà dovuto ossia le somme non pagate per le prestazioni scolastiche usufruite ammontanti a mille e cinquantanove euro più la sanzione amministrativa pari al triplo dell'importo indebitamente non versato la gravità del reato sta anche nel fatto che oltre a dichiarare il falso e causare un mancato introito nelle casse comunali è stata tolta la possibilità di usufruire delle giuste sovvenzioni ad un nucleo familiare che invece ne avrebbe avuto realmente bisogno questo risultato pertanto si inquadra nell'ambito delle attività svolte dal corpo della guardia di finanza e maggiormente come funzione sociale assolta della polizia economico finanziaria che funge da controllo del corretto funzionamento delle norme di sostegno previste dalla legge a favore delle famiglie meno abbienti che si trovano realmente in difficoltà economica